Sono Luciano Minestrella, dell'Amirabilis Teatro Socias di Magliano. Mi fa piacere, diciamo in qualche modo, essere coinvolto in questo lavoro, in cui mette in luce il lavoro di alcuni compagni, amici compagni di Poggio Merteto, che l'ho conosciuto nel lontano 1975-76, quando noi preparammo uno spettacolo sull'America Latina e lo facemmo a Magliano. Non so come sia venuto a conoscenza anche loro e ci hanno dato la possibilità di poterlo fare a Poggio Merteto. E quindi siamo andati a Poggio Merteto a fare questo spettacolo sull'America Latina. Era uno spettacolo molto politico, molto complesso. E da lì è nato il rapporto, l'amicizia e più di tutti, oltre che l'amicizia, anche il rapporto. Il rapporto ideale e tutto quanto quello che ne consegue. Il rapporto è continuato sempre con loro, fino ad arrivare poi, nella nascita del Carnevalone liberato, a poter partecipare direttamente con i nostri lavori all'interno di questa grande festività. Il primo lavoro che noi facemmo all'interno, proprio come spettacolo, all'interno del Carnevalone liberato, è stato la proposta di festa. Noi la proposta di festa l'abbiamo fatto nel 1980, l'abbiamo prodotto e l'abbiamo portato in molte parti dell'Italia centrale. Era uno spettacolo, era complesso, nel senso che c'erano... Era uno spettacolo alla Braden Puppet, cioè i mascheroni, grandi mascheroni che prendevano in qualche modo possesso del paese con un grande trampogliere, altissimo trampogliere che rappresentava la morte. E era il rapporto del rito, del grande rito tra la vita e la morte che c'è, c'è stato sempre e c'è ancora nel mondo contadino. Il contadino era rappresentato da queste grandi maschere, mascheroni, alti 4 metri, portati dai nostri attori e poi c'era la morte come contrapunto su grandi trampoli che arrivarono anch'essi. La trampoliera arriva quasi all'altezza di 2,70-2,80 metri con una grande falce e infatti come testimonianza di questo lavoro è proprio questa foto scattata durante lo spettacolo e l'attore nostro, di cui sono io poi, mi sono posizionato davanti all'arco d'ingresso della parte antica diciamo di Poggio Milteto, dove si va verso il Vescovado. Ecco, quindi è questo. Eravamo stati invitati alla carnevale Ambrosiano, a Milano. E siamo partiti, abbiamo portato dei frammenti di questo spettacolo nella grande piazza del Duomo e il mattino, il giorno successivo avevamo l'appuntamento a Poggio Milteto per lo spettacolo per questo spettacolo proposto di festa all'interno del Carnevalone Liberato. Siamo arrivati a Magliano Sabina perché noi siamo di Magliano Sabina e questo è il Teatro Maglio il nostro teatro, Teatro Maglio e da qui siamo immediatamente scaricate delle cose e caricate altre siamo andati a Poggio Milteto a fare questo spettacolo. Ecco, un spettacolo diciamo in qualche modo che ha accolto e ha raccolto molto entusiasmo da parte dei partecipanti al Carnevalone Liberato. Ripeto che era il 1981-82 quindi in qualche modo quasi ancora agli albori del Carnevale Liberato e quindi non c'era tutta quella marea di pubblico che ci sarebbe stato alla fine degli anni 90 ecco, quindi un grande afflusso di persone di gente da tutte le parti diciamo dell'Italia centrale questo è quello e facciamo quindi questo spettacolo questo lasciò un segno e proprio l'indicazione di questa foto che ho fatto vedere della morte, della falce è stata per alcuni anni sempre presente durante il Carnevalone Liberato e la cooperativa di cui era, diciamo, faceva parte la nostra realtà si è sciolta proprio si è trasformata in Mirabilis l'Ammirabilis però io ho sempre continuato a essere presente nei Carnevaloni Liberati proprio con questa immagine della morte che poi è molto legata alla realtà di questo evento di questa festa il fatto, ecco il motivo allora tengo a precisare cioè che nella una festa popolare devono essere presenti tutte quelle realtà culturali e artistiche presenti su un territorio quindi c'è la parte in qualche modo più sarcastica e la diciamo la satira c'è presente il fatto anche politico c'è presente non so delle volte anche l'aspetto culinario tutto quanto questo ma ci sono anche presenti anche le parti le componenti artistiche che la cultura trasportano in forma artistica non voglio qui dilungarmi per parlare perché diciamo l'arte deve far parte della cultura cultura popolare della cultura contadina dico solamente in due parole che è importante allora il folclore o la cultura popolare la cultura contadina è facile che possa in qualche modo scivolare nel folclore nel ricordo l'arte invece è quella che segna e identifica una cultura la ferma la ferma proprio in quel momento in quella in quella precisa identità e diciamo chi l'artista non fa un discorso generico fa un discorso preciso va togliendo tante tante cose che non servono e lascia solamente l'essenziale e quella è l'arte è quella che mantiene viva la cultura senza arte la cultura sarebbe solamente folclore sarebbe solamente ricordo e ogni volta il ricordo si perde viene aggiunto ad altre cose che non c'entrano niente invece l'arte la forma d'arte che in qualche modo esprime quell'attimo quel momento quella situazione è precisa rimane rimane lì ecco quindi la nostra presenza è stata sempre voluta con questo scopo sia da parte degli organizzatori sia da parte da parte nostra in una fase successiva noi facemmo uno spettacolo sulle grandi maschere che prendono possesso del paese che purtroppo si trasforma l'ippogrifo imbonitore allora c'era un personaggio che andava vendendo della polvere per i paesi ricordando i vecchi i vecchi diciamo i vecchi venditori che venivano nei paesi con la bicicletta con una cassa di dietro una valigia prendevano la valigia la cassa l'aprivano e vendivano quello che c'era e i cosiddetti imbonitori ecco non serviva niente quella quella polvere quelle cose però erano l'illusione quella buona illusione che faceva sperare la gente verso una società migliore o una vita migliore ecco in quel caso noi non vendevamo polvere che serviva per il corpo gli unguenti ma noi vendevamo della polvere che rendeva reale un sogno rendeva reale la fantasia quindi nel momento in cui questa polvere scoppiava perché era polvere epilica scoppiava dietro questa polvere apparivano delle immagini e apparivano mascheroni apparivano diciamo mostri ma mostri buoni quindi era questa la fantasia soprattutto questo veniva apprezzato molto sia dalla gente grande ma soprattutto dalla nuova generazione dai bambini dai ragazzi e il sogno della fantasia è loro ecco quindi c'era questo ecco esatto e alla fine lo spettacolo terminava che tutto questa processione di mostri che nascevano che spuntavano fuori confluivano tutti quanti verso un unico punto che era un grande un grande in qualche modo figura che apriva le sue ali le sue pali il suo manto e al centro c'era un grande diavolo ecco ma il diavolo non inteso come un senso diciamo come può essere per la religione cattolica il senso negativo ma il diavolo è in qualche modo il fantastico portato all'eccesso portato alla super in qualche modo immaginazione e questo esatto capito e questo diavolo in qualche modo dopo prendeva tutto e riassorbiva dentro di sé tutto quanto con dalla bocca uscirono fuochi d'artificio ecco come potete vedere come potete vedere qui ecco era presente sempre in questo tipo di spettacoli era sempre presente il trampoliere era il drago il grande drago che a un certo punto diventava un personaggio vero non solamente come maschera ma diventava diciamo la presenza e quello faceva da guida a tutto quanto il percorso e allora nel momento in cui abbiamo in qualche modo dismesso questo spettacolo abbiamo offerto alla diciamo alla al gruppo questi amici diciamo del carnavalone liberato il diavolo è stato per anni diciamo in qualche modo il stato sul parco scenico centrale della piazza durante questa questa festa è stato presente per anni poi dopo come mi ha detto Walter durante questo è finito anche lui in qualche modo preda del fuoco stesso del cui prima vomitava il fuoco adesso era diventato in quel momento esso stesso vittima del fuoco che vomitava ecco quindi finire perché guardate anche il discorso del fuoco ha una grossa una grande significato nella cultura popolare il fuoco rappresenta non la distruzione ma rappresenta invece l'elevazione di una di una cosa cioè viene bruciato non per distruggere ma perché la sua immagine nella mente rimanga sempre inalterata ecco questo qui che è presente ecco e dopo ci sono state altre fasi un'altra fase che è importante che poi dopo purtroppo non è andata a compimento però è stata iniziata come progetto è la realizzazione di una piccola macchina scenica dove poi diventare grande della diciamo del simbolo conoscete tutti il simbolo del carnevalone liberato c'è questo diavolo che insegue col furcone insegue il monsignore e quindi questo allora abbiamo realizzato in piccolo questa macchina scenica che era posta lì nella piazza e la gente la girava la faceva la girava e quindi vediamo questo questo rincorrere il diavolo che rincorrera il monsignore non lo raggiungeva mai capito però girava 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 come poi ogni anno c'era sempre la stessa cosa diciamo il diavolo non lo raggiungerà mai il monsignore è sempre questo bisogno di andare appresso per 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 capito perché se raggiungesse finirebbe il tutto perché anche il carnevalone è un sogno non è una diciamo una cosa fine a se stessa è un sogno un desiderio che ogni anno si ripete quindi poi trovo che l'ha arricchito sempre di più ecco quindi questa qui fatto questa questa giostra e non potuta realizzare come macchina grande perché io l'avevo progettata pensata grande grande significa a personaggi reali e quindi il piano di azione doveva essere almeno di un disco di due metri quindi diventava una cosa complessa quindi però sarebbe stata molto molto bella molto incisiva e molto significativa come forza di diciamo qualche modo di identificazione del carnevalone liberato ecco successivamente siamo stati altre volte per altre cose poi dopo però nel 93 in qualche modo siamo ritornati con la nostra con la nostra realtà perché avevamo fatto una sorta di installazione spettacolo su Tangentopoli e l'avevamo in qualche modo iscenata seguendo diciamo il milione il milione di Toff durante questo del Bonaventura il signor Bonaventura e su questo grande disco giravano i vari personaggi e quello l'abbiamo portato anche a Poggio nel Teto e perché era un momento importante per diciamo in qualche modo a livello satirico del cambiamento dell'Italia e questa in qualche modo mescolanza di mani sporche dei politici nei confronti della realtà della realtà del popolo ecco quindi questo quindi era proprio un tema un tema specifico ecco quindi questo poi dopo c'è stato un allontanamento e lo dico con precisione qual è stato per me il motivo il motivo preciso ecco che ognuno agisce in base anche alla sua personalità ai suoi bisogni e allora io il carnevalone liberato stava prendendo sempre più piede diventava sempre più numeroso e venivano fatte diregnate scelte diciamo necessariamente giuste per in qualche modo assecondare il piacere e le volontà di chi veniva e perché quello novità significava anche portare anche altra gente ecco io ripeto ero un po' fuori da questa da questa logica dicendolo già dall'inizio come ho detto che noi partecipiamo come arte per dare un senso alla come si dice alla cultura alla cultura contadina alla cultura popolare e in questo caso trovavo difficoltà trovavo io difficoltà a sentirmi parte presente pur essendo sempre parte ideale presente questo qui è importante capito perché ognuno deve anche sapere e sentirsi libero sentirsi carico di potersi esprimere quella realtà a me non mi dava non c'era un qualcosa che mi poteva dare questa libertà o più che libertà questo sogno avere un sogno da realizzare ecco in quel tipo in quel tipo di realtà però ripeto e tengo ben preciso e presente che è rimasto sempre da parte mia il diciamo la presenza come si dice la presenza interiore la presenza di ideali a quel tipo ecco di festa anche se non c'era la mia presenza fisica ecco una cosa che ricordo e di cui poi anche i compagni diciamo di Poggio Milteto Walter soprattutto in prima persona e anche Pino Sandro e tutti e è quello quando mi invitavano e spesso tutto Walter mi voleva presente con diciamo la mia maschera della morte con i trampoli ecco io facevo sempre un percorso alternativo non ero presente come spettacolo ma è come se fossi io Luciano presente lì in questa festa e a me piace sempre essere colui che osserva è presente alla festa ma sta sempre nella posizione di osservatore e cercare di avere il piacere sentire il piacere nel vedere che gli altri si divertono che degli altri reagiscono ecco e quindi dare in quel momento la presenza ecco in quel caso io rendevo forte la mia presenza perché ero una maschera ero sui trampoli alti altissimi con questa faccia con questo volto da morte capito però io dietro questi occhi mi vedevo vedevo quello che accadeva e seguivo le varie cose mi avvicinavo o mi allontanavo in modo tale che poi anche la mia presenza non fosse decisa decisiva per il risultato ma è questo sentire sempre su questo tipo di di alone di qualcosa che è presente però in qualche modo appare un attimo scompare e poi riappare ecco e il ricordo stesso che hanno loro nei miei confronti di questo guardate diciamo in qualche modo è la stessa cosa questo ricordarsi della mia presenza della morte è proprio questo come io ho fatto quando ero presente apparivo scomparivo e apparivo dove nessuno pensava un punto in un punto completamente opposto ecco quindi questo questo è il pensiero il ricordo più bello che posso avere di questa di questa grande festa vengo a precisare una cosa che tutto quanto quello che abbiamo fatto non è stato solamente opera mia ecco è vero che io ero in qualche modo l'anima prima della cooperativa Scuola Libera che era una cooperativa la prima cooperativa culturale della provincia di Vieri siamo stati noi diciamo la cooperativa Scuola Libera non vado a dire beh tanto questo la cooperativa Scuola Libera sarà la prima la prima cooperativa culturale della provincia di Vieri però dicevo essendo cooperativa prima essendo gruppo un gruppo di lavoro una società dopo hai bisogno di essere non singolo ma avere un numero di persone accanto e tutto quello che avete visto per quanto riguarda la parte diciamo di maschere e compagnia è opera di Marga Barbaresi che poi è la mia è la mia moglie ecco per me è stata una persona estremamente importante perché se io ho realizzato alcune cose le ho realizzate insieme insieme a lei e eravamo il controcanto l'uno l'uno dell'altro e quindi ecco tengo a rivedo tengo a precisare questa sua in qualche modo presenza sia interiore sia diciamo operativa ma soprattutto lavorativa della costruzione delle maschere infatti a Milano al carnevalone a carnevale ambrosiano siamo andati a Milano perché lei già lavorava con una cooperativa sul di Milano nella costruzione della preparazione del carnevale ambrosiano nella costruzione di maschere e quindi tutto quindi anche certi eventi si sono avuti tramite lei altri può accadere con me o con altre persone però la parte più prettamente in qualche modo di maschere e compagnia è lei l'artefice l'anima di questa di questa realtà ecco la conclusione di tutto quanto questo è è che volevo iniziare con questo con questo pensiero poi dopo sono bypassato ad altri però adesso lo metto come conclusione per poter dare in qualche modo un ponte perché io sono abituato a non vedere mai la fine di un viaggio ma quello che può sembrare fine è il punto di partenza ecco allora guardate come dicevo all'inizio ho iniziato con 1975 76 con questo spettacolo sull'America Latina fatta appoggio nel tetro già allora sentivamo il bisogno di poter collegare le varie realtà culturali eravamo veramente un incontro di realtà e quindi questo ognuno poi dopo ha proceduto in un percorso proprio loro hanno proceduto nell'Arci in tutte quante attività che facevano con l'Arci che poi confluiva una grande presenza nel carnevalone liberato noi col teatro arrivando a grandi appuntamenti quindi questo qui e è importante che ognuno è partito per conto suo ha avuto un momento di incontro e quel momento di incontro è stata una grande forza e poi è ripartito per conto suo ci sono e gli incontri adesso possono avvenire sia fisicamente come abbiamo fatto già per il quarantesimo anno dell'Arci di Poggio Milteto abbiamo fatto una mostra delle città invisibili di Calvino all'interno di questa grande festa dei 40 anni dell'Arci di Poggio Milteto quindi è continua in questo modo in questi punti di incontro ma soprattutto quello che vale è l'incontro in qualche modo di ricordi ma non il ricordo per il ricordo ma il ricordo perché in qualche modo testimonia la nostra realtà la nostra unione e il nostro bisogno tanto questo di continuare ognuno per la sua strada grazie a tutti